Pippo Calì, possiamo definirti il numero uno dei signori italiani? Penso di sì. Sì, diciamo di sì, anche perché sono rimasto da solo in questi ultimi due anni, prima da su e poi croce, hanno leggermente diradato le partecipazioni. La stagione è come iniziata? Ho fatto una prima gara alle Barbados non molto brillante e adesso in realtà la stagione inizia adesso, qui da Venezia e poi abbiamo 18 gare tutte di seguito per la stagione estiva. Però non nasconderci il fatto che dopo Venezia c'è un appuntamento per te, credo, molto molto importante. Sì, è l'appuntamento forse più importante della stagione, l'invito al PGA americano. È una gara veramente importante, forse una delle più importanti di tutta la stagione del mondo professionistico, signores. Pochi lo sanno, ma nel Veneto quasi tutti, tu sei nato a Mirano. Sì, effettivamente sono nato a Mirano, casi della vita. Mio padre è militare di carriera, nell'epoca era qui a distanza, qui nel Veneto, e quindi io sono nato qui. Qual è il tuo legame con il Veneto e con Venezia? Beh, a parte la bellezza del posto che è sempre un piacere venirci. Io in realtà, appunto, mia madre essendo Veneta, quindi mi sento in parte Veneto e per me è come tornare a casa. Pensi che il prossimo anno ti farà compagnia Costantino Rocca? Sicuramente, quest'anno a fine stagione passerà a signores e quindi lui, adesso c'è anche Massimo Mannelli che credo che proverà la carta a fine stagione. Spero di non essere più solo, di essere due, tre.